Poi sono i turcali, sono i cani, sono i cani. Ciao ragazzi, sono Luca. Qui sono i Costantinopoli di Turchia. Mi posso sapere che qui sono i Costantinopoli Curios, che sono in Ancara, Ismir, Edirne, Kircherelli, stati di Ticapoli, ci sono un'accione paraparapoli. Sono moderni, ci sono i rossidi, passano sempre molto BOTOCольшim boom. Nerля? 들? Ha, BOTOC. Credono i rossidi, e pensare, sono in Soria, i faccio i rossidi. hanno piccola vizzaraccia se non facessi botox se non sono non sono 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 moderni e chiedono chiedono europei che pietro bar ruffo il città io voglio che in Turquia sono sono diversi come come i 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 La Caterina ora sono cambiate le cose qui hanno cambiato molto. E' in soltanto la prima volta c'è tutti i bambini. A qui c'è il Halic, il Golden Horn di Constantinopolis. C'è molti bambini qui. E' qui c'è il bambini, per cui ho vinto qui. Ci sono vinto qui in bambini. pegnano molto musulmane, hanno pegnano molto, molto pegnano, ha anche un'applicazione, come sapete, c'è anche l'Eglia, l'Eglia possiede un'applicazione con il Bumble, non lo so, ambas 10, e qui dovete fare, per lì, per lì, per lì non avrete quali coppie, o morfiere coppie, e qui le cassa è un cappone, se fraristopoli.